Si è svolto presso il Centro Incontri della Regione Piemonte il convegno La Satira in Europa, prima e dopo Charlie Hebdo. L'incontro, organizzato dal Consiglio regionale del Piemonte con la Consulta Europea, l'Ordine dei giornalisti del Piemonte con il patrocinio della Commissione Europea, ha approfondito il tema della libertà di espressione e di satira dai diversi punti di vista, giuridico, culturale e giornalistico. Parliamo di democrazia perché parliamo di satira e parliamo di satira perché parliamo di democrazia. La democrazia è il potere del popolo e la satira è la critica di tutti i poteri che non sono i poteri del popolo. E' per questo che la democrazia ha bisogno della satira e che la satira non può esistere senza la democrazia. Il tema è quello dei rapporti tra religione e satira, tema caldissimo, drammatico in tanti suoi aspetti e anche per il diritto particolarmente complesso. Infatti trovare un equilibrio è particolarmente difficoltoso. Io tento di porre qualche limite al diritto di satira ma in un complesso, in una società laica, nella quale alla fine tale diritto tende per lo più a prevalere quando la religione è concepita soprattutto come un potere, non tanto come qualcosa della pura sfera dell'individuo.